Un'immagine che racchiude le emozioni di uno degli apici della straordinaria carriera di Pietro Mennea. Il 28 luglio 1980 la Freccia del Sud conquistava la medaglia d'oro olimpica a Mosca sui 200 metri in una gara incredibile culminata nella rimonta sul britannico Alan Wells. L'atto finale di quella gara, scandita dall'ormai leggendario recupera, 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 ha vinto del telecronista Rai Paolo Rosi e ora un murales realizzato in via Leonardo da Vinci a Barletta dalla professoressa Antonella Palmitessa. Mi sono ispirata a Pietro Mennea, questo velocista, questa voglia di vincere, anche vedete, recupera, recupera, fino all'ultimo minuto ha vinto e allora io quello che dico è proprio questo, anche in questo momento di pandemia mettiamo fuori le nostre energie, il nostro tempo libero, spendiamolo così come lo sto impiegando io, facendo qualcosa di costruttivo, dipingendo, seguendo le nostre passioni, non dobbiamo impregherirci chiusi in casa, bensì come sto facendo, realizzando appunto un murales, qualcosa di bello per abbellire i muri della nostra città contro quello che accade di solito, quello che fanno di imbrattare i muri, piuttosto dipingere questi muri con soggetti come sto facendo io, ricchi di storie e di cultura, è un omaggio che sto facendo comunque alla mia città. A sottolineare l'importanza dell'immagine rappresentata dalla professoressa Palmitessa, anche Eusebio Aliti, quattrocentista azzurro, organizzatore dell'ultima edizione del Mennea Day e ora candidato alla presidenza della Fidal Puglia. Ricordare un grande campione è importantissimo, poi non solo di atletica leggera, un grande campione sportivo di tutta Italia e in Europa, perché lui detiene ancora il record europeo, quindi importantissimo perché si recupera uno spazio inutilizzato, magari anche sporco, invece adesso ci sarà un murales bellissimo a ricordare un grande campione e a far conoscere a chi ancora non lo conosce. La rappresentazione dell'oro olimpico di Pietro Mennea si inserisce in una serie di opere che la professoressa Palmitessa sta realizzando in giro per la città, con l'obiettivo di abbellirla, mettendone in risalto le sue figure e le sue immagini migliori. Omaggio alla mia città con queste opere che sto riproducendo. A costo zero voglio ancora continuare a dipingere questi muri della mia città, portando i miei colori, i miei pennelli, continuando come ho fatto già con dei soggetti, non solo storici ma anche religiosi, come avete visto ho dipinto qui all'angolo i patroni della nostra città. E allora, proprio questo, continuiamo a fare qualcosa di costruttivo.